Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcast. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Eccomi. Ciao Salvatore. Sono qui con l'inger, te lo passo? Sì, grazie, grazie. Sì, ciao. Vai, lascia pochi dei guai, te va. Buongiorno, buona sera, Riccardo. Come stai? Eh, se sopravvii, se sopravvii. Senti, questo testone di cazzo che stanno con te su quella storia di Marco Polo. Se noi facciamo un piano di rientro in cinque o sei mesi, sono disposti a togliere il decreto ingiuntivo o se no, andiamo avanti con il giudice e chi se ne prega. Salvatore. Eccomi, Riccardo, sono questo. Allora, se noi facessimo il piano di rientro su sei mesi, questi geni sono disposti a visibili il decreto ingiuntivo o no? Se non c'è riduzione penso di sì, io li incontro a Marta Dì, li incontro. Allora fai questa proposta e fammi sapere. Senti, Riccardo, io ho pure l'ultima fattura, quella dei 152 mila euro che non si trovava. Sato che si è trovata, si è riuscita a pagarmela. La giunta di destra sembra iniziare a perdere colpi. I media li bersagliano. C'è lo scandalo della tangente da 250 mila euro per un appalto che riguarda proprio Riccardo Mancini, quello dell'intercettazione che abbiamo appena ascoltato. Lui non fa passi indietro in questa fase. Al contrario, si dà un'altra carica. È sotto l'occhio del ciclone, ma diventa amministratore e delegato di una società importante a Roma. Convention Group, una cosa del genere. Questa cosa dà fastidio anche al sindaco alemanno. Non ci dimentichiamo che i due verranno inquisiti e poi prosciolti per questi fatti di corruzione. Mancini e Carminati, come ho detto in qualche episodio fa, sono conoscenti da tanti anni, dai tempi della politica estremista. Abbastanza amici da scherzare tra di loro. Uno che gli dà del guercio maledetto che gli fa passare i guai. Dall'altro lato, Carminati gli dà del ciccione obeso che tra poco scoppia. C'è intimità, insomma, intimità romana. I romani tra amici fanno così, spesso e volentieri. Si insultano, ma perché si vogliono bene per adesso in questa fase. Diciamo che la verità è che, come il pirata dice a Brucia durante una confidenza, è lui che ci sta a passare lavori buoni. Quindi è un tassello importante di tutta la premiata ditta, no? Tuttavia, nonostante i lavori, continua a pagare attraverso l'ente EUR, un po' così, un po' cosà, no? Ci sono delle cose che mancano all'appello. E questo non è proprio un bel comportamento. Chiaro che pagherà. Magari ci sono problemi momentanei, ma adesso basta. Basta così. Magari ci sono problemi momentanei, ma adesso basta. No, 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 no. Amico mio. Bello mio. No, ti ho detto una cosa. Chiedi, ho sentito, amico porcone, quello che dice il maglia rotta, no? Eh, per pagare c'è una fattura che mancava all'appello, vuole lo sconto anche su quello. Scusa, ma a chi appi non gli ho chiedi, lo sconto a me me lo devi chiedere. No, vabbè, ma lo sconto non scherziamo. Ah, diciamo, ma quella fa parte del vecchio... Ma no, 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 che sconto, che sconto, non ci fanno sconto. Eh, ma agli altri oggi gli hai fatto la proposta che gli paghi i più milioni, gli hai fatto sconto. Gli hai paghi tutto. Ma no, non ci sa se mi pagano il vecchio, capito? Ah, ma... Eh, ma... Ma tu mi dici, vieni qui, mi fai lo sconto e te la pago. Ti ho detto, scusa, ma gli altri gli hai due milioni... Ma adesso ti richiamo dopo, sto andando là, ma ti ha sentito, non hai capito? Non è capito, ma poi c'è un attimo tu e poi mi chiami, io faccio quello che... Certo, 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 e poi vediamo. Ma quale sconto? Non esiste. Evidentemente Mancini si direbbe sta un po' inguaiato, ma sta giocando a un gioco pericoloso, sta rischiando. Carminati allora si rivolge a un vecchio camerata di tanti anni fa, perché Carminati non è che può andare a parlare direttamente, perché quando parla direttamente lui il problema si deve risolvere. Quindi prima, diciamo, di parlare lui, manda sempre qualche tramite. E allora parla con Carlo Bucci, funzionario di S.p.A., un vecchio camerata, anche lui, una persona fidata, uno della vecchia scuola, che anche Mancini era un camerata, ma non è uno fidato, diciamo. Chiamata rapida, semplice, a tratti intuitiva, che si chiude con adesso gliela faccio chiudere io. Punto. Ora capite l'importanza di quella fase che io chiamo gavetta? Perché qui abbiamo quattro soggetti uniti a doppio vilo, che vengono dallo stesso ambiente. Pucci, Carminati, Alemanno, Mancini. Tutte e quattro si sono formati in quelle piazze dove si commettevano reati che potevano farti rischiare una vita in carcere solo per l'ideale. E quindi, di conseguenza, che succede? Che tanti anni dopo si ritrovano tutti a capo di qualcosa di grosso, a comandare su Roma, al loro modo, quindi in ruoli di potere, e cercando di fare ognuno il suo. E quindi, a chi si rivolge, Carminati, quando deve fidarsi di qualcuno? A chi, insieme a lui, ha commesso determinati atti in anni in cui lo si faceva puramente per sentirsi vivi. Non un mercenario. E questo è il discorso. Cioè, quindi, quando tu vieni dall'ideale, come ho detto nel primo episodio, quando una persona ne riconosci il cuore, che poi questo cuore venga incanalato in cose sbagliate, è un altro conto. Quando magari un'altra persona la conosci in carcere e sai che magari è lì perché non ha parlato, cioè, sono un mix di cose che ti portano a fidarti veramente di certe persone, da dentro. Quindi, abbiamo quattro soggetti che vengono dallo stesso background. E poi c'è Buzzi, che comunque, a parte Mancini, si è fatto alla galera come tutti gli altri, in passato. Quindi, capite oggi perché io condanno fortemente il discorso dell'immediatezza? Oggi tutti quanti vogliono arrivare subito. Vogliono essere a capo e pretendono di. Magari comprando le persone. Appena c'è due soldi, vuoi il potere. Aspetta. Questi magari non si saranno laureati. Buzzi sì. In carcere. 110 e lote. Però a parte questo. Ecco, hanno frequentato un'università differente. Mezza la strada, letteralmente. E quindi di conseguenza, quando c'hai quella tipologia di laurea lì, passano anche 30, 40 anni, e poi quei meriti te li ritrovi. Per questo dico, non c'è immediatezza. Per questo dico, poi quando si arriva ad alti livelli, si ritorna sempre da quelli che hanno coltivato in gioventù e hanno continuato una certa strada. Mancini continua a fare il prezioso. Infatti lui è un po' l'outsider, moralmente parlando. Le parole di Pucci non sono sufficienti. Carminati si incazza. Eh no, così no. Dice, muovieni il re di Roma. Io entro dalla porta principale. Due frasi e mano a mano. I pagamenti si vanno sbloccando. Un po' qui, un po' là. Però questa frase diciamo segna la fine delle del tirarsela di Mancini. Si cambia cavallo. Mancini è inaffidabile. Appena uno potrebbe dare problemi. Quindi paghiamo il vecchio però spostiamoci da qualcuno che in qualche modo potrebbe essere ancora più utile. Facciamo un altro step. si passa al tank. Panzironi. Un uomo che vive nell'ombra di Alemanno. Uno che se dice una cosa è quella. Però costa. 15.000 a settimana che poi diventano 30.000 per lui 30.000 per la fondazione del sindaco. E i contanti per le tangenti scarseggiano insomma. Non sono facili da reperire. Ci sono soldi che devono essere contanti presi da di là. C'è la scena di buzzi che lo incontra col borsello. Di certo non mancano eh. Però insomma è un bel investimento. Panzironi alla fine del rapporto verrà costare quasi 900.000 euro puliti puliti di tangenti eh. Però lui è il papa dei rifiuti. I lavori che ti può dare lui non te li dà nessuno. Mettiamola così. Riassumiamo tutto questo con il messaggio di auguri di buzzi per il capodanno 2013 al suo caro amico. E gli dice speriamo che il 2013 sia un anno pieno di monnezza profughi immigrati sfollati minori piovoso e così cresce anche l'erba da tagliare e magari con qualche bufera di neve. Viva la cooperativa sociale. Dove c'è un problema a Roma c'è la mano di buzzi a risolverlo. Assurdo che invece che essere un elogio questo sia l'insulto più infamante che io possa fare in questa serie. Questo messaggio è di un cinismo puro. Non c'è più nulla di quell'idealista che dal carcere ha meritato la grazia. Qui c'è il buzzi assassino. Quello che con 35 coltellate fa fuori il problema e che oggi si è fatto grosso si è fatto uomo ha capito che si può guadagnare dal dolore degli altri e che non fa quello che fa per il bene comune perché il buzzi fondamentalmente con la sua cooperativa appunto fa del bene. La cooperativa sociale funziona non è che stiamo a parlare è quello che c'è dietro e questo cinismo questo sperare questo volerci solo speculare questo a me non me ne frega un cazzo solo per me solo per saziare se stesso il suo ego smisurato Buzzi e Carminati nel gennaio 2013 sono i veri padroni di Roma una Roma che non è quella della criminalità o dell'ideale politico è la Roma che pulisce le strade la Roma che accoglie i migranti la Roma che taglia l'erba la Roma che dà lavoro e questo è inquietante e questo è il vero passo avanti che fa Carminati dal furto dei cavò a mafia capitale ed è difficile quasi impossibile pure da da imputare lo era prima quando ammazzava la gente figuriamoci adesso e come è bello mio ecco come dice l'hanno convocato l'hanno convocato si stamattina vabbè io tanto saprò qualche cosa più tardi ti preoccupa ma guarda fino a ieri non c'era niente ma io l'ho detto pure io stai tranquillo lui si caga sotto di lì stai tranquillo mi resta tranquillo che se ci fosse qualche cosa no prima di chiamare lui se ci fosse qualcosa mi chiamano a me sicuramente una minchiata a che ora ci deve andare a luna convocato ah vabbè ci sentiamo dopo bellamente nella destra però nel 2013 accade di tutto se la premiata ditta Carminati Buzzi sta volando a livello di affari a livello proprio di potere eh la politica un po' meno praticamente sono impossibili da rieleggere diciamo la verità lo scandalo dei soldi rubati da fiorito detto Batman chi se lo ricorda andatevelo a cercare poi c'è la convocazione di Mancini la convocazione diretta in questura che viene messo sotto pressione pesante da tutti quanti e questa volta si deve dimettere per problemi di salute dice se come no Carminati e compagni sono un po' preoccupati a essere sincero da questo fatto che le indagini vanno avanti e magari qualcuno cede magari proprio Mancini potrebbe dire cose che non dovrebbe dire ecco sia Massimo che Pucci in verità sono sicuri che parlerà allora dopo le prime dichiarazioni spontanee sui fatti insomma Mancini sembra ancora coprire i suoi collaboratori nell'ombra Carminati Pucci e Buzzi vanno un attimo sotto casa sua dice Carminati tocca fare il male minore se ero sicuro mica ne stavamo parlando insomma non c'è ancora una sentenza di morte ma al minimo sospetto fondato ci sarà la procura gioca forte arrestano Mancini Alemanno si distanzia completamente io non ne sapevo nulla e lo accanna come si dice a Roma un comportamento che a Carminati non piace cioè il disprezzo verso Alemanno da parte sua è sempre più grosso perché come ha sempre detto quella è gente che non segue alcun principio se non quello di pararsi il culo a ogni costo e come meglio gli conviene tocca decidere la strategia di difesa del Mancini e a farlo sono ovviamente Carminati Pucci e un certo Fabrizio Testa un intermediario l'ennesimo tra questi due mondi quello di Carminati e quello della politica e vanno in uno studio legale che sfortunatamente da un po' di tempo è sotto sorveglianza le conclusioni da riferire sono magnate la lingua e mettite a dieta non non penso che serva una traduzione dice Carminati proprio all'avvocato in quell'ambiente non c'è l'obbligo di prendersela nel culo io c'ho l'obbligo quindi io che sono un criminale e di una certa scuola se vado in galera tu ci puoi mettere la mano sul fuoco che me la prendo nel culo io ma Dimancini non mi posso fidare perché lui non viene da quell'ambiente lui è è uno che è abituato bene e infatti dentro attraverso un altro intermediario calabrese portano diciamo cercano di trattarlo bene con amicizie e calore dicono perché comunque la paura di fondo c'è ma Mancini si sta comportando bene sta zitto fondamentalmente poi quei soldi per cui è stato accusato non li ha neanche presi lui fino a prova contraria Mancini in questo momento è un martire sempre stando alla logica criminale perché è ovvio che è un corrotto colluso il peggiore di tutti però ecco sia il peggiore sia almeno leale tra i peggiori perché qua nessuno si fida più di lui e comunque questa inchiesta nasce proprio per farlo parlare perché sapevano che potevano in qualche modo costringerlo cioè tra tutti lui era l'anello debole però dicono tra di loro e questo se non parla quando esce sta ancora a cavallo se parla non c'è posto in cui possa andare a nascondersi lui che era abituato con quattro domestici in casa abituato al lusso sfrenato e adesso non si lava per giorni è stato talmente impaurito che non che non non esce neanche dalla cella per farsi una doccia il carcere è un trauma per tutti sia per chi lo mette in conto gli uomini d'onore per chi invece non lo mette in conto ancora peggio maggior ragione perché non se lo farebbe mai non c'è neanche pensato che poteva finirci e questi sono i peggiori perché sono quelli che fanno più reati fino a che poi non ti prendono e qui c'è la storica battuta di Buzzi che gli piace proprio spettacolare su carminati che educa mette in riga la gente ci gode cioè fa tutto lo svoronice tanto parlando con i giudici non risolvi niente ha parlato massimo ha educato ma se la ride sotto i baffi e poi la chiude con io tre mesi di regina geli me li faccio fumando la storica battuta ci sta ci sta siamo a parlare di uno che è stato condannato a 30 anni figuriamoci proprio se li fa veramente fumando e mo in questa fase poi c'è questa fase in questa fase è un intercalare che uso per far capire i tempi correnti nella storia quindi no diciamo nei tempi invece presenti adesso nella vita condanne ci sono state belle peso quindi insomma credo che la credibilità per dire questa frase ce l'abbia Buzzi non ne dubito considerando che mo insomma sta in attesa di giudizio definitivo si dovrebbe fa 20 anni e si è aperto un pub vabbè è il più matto Buzzi Buzzi è il più matto di tutti ora la domanda sorge spontanea nel momento in cui lo studio legale dove si incontravano questi qui carminati con l'avvocato arriva Massimo entra dice venite in strada e vengono tutti informati che lì ci sono delle cimici portano una persona specializzata trovano la cimice la disattivano la nascondono ce ne sono altre però che fanno loro anziché dire ok la tolgono la lasciano lì come a dire così le indagini le facciamo finta di niente come se non ci fosse depistiamo le indagini ma la domanda che sorge spontanea appunto è come ha fatto a sapere che c'erano i cimici Massimo carminati questa è una di quelle domande che ancora non hanno una risposta che c'erano